Ehi ciao, benvenuto. Come stai? Ok, ok, stai maluccio, dici. Non ti preoccupare, io sono un dottore, mi prenderò cura di te. Eh sì, c'è un po' di confusione nell'ospedale, però non ti preoccupare. Infatti poco fa ho scritto per un paziente che è arrivato qui. Ma tu cosa ti senti? Ok, ok, quindi ti senti un po' di prurito alla gola? E anche mal di testa? Ok, ok. Ma cosa hai mangiato in questi giorni? Può essere anche un'intossicazione alimentare? Raccontami un po'. Ah, quindi hai mangiato leggero? Hai mangiato delle gallette di riso? Mi racconti? Ok. Eh, ah ok, quindi ne hai mangiate tante. Te duco da quello che mi dice? Ok, ok. Alla, guarda, di base ti puoi intanto prendere per questo malessere che hai. E' prurito alla gola, mal di testa, secondo me sono i sintomi per una sorta di piccola indigestione. Pensavo intossicazione alimentare, ma in realtà no. Tutto, non ti preoccupare, è una cosa normale. Giro di 3-4 giorni, ti dovrebbe passare tutto. Non ti preoccupare. Cosa altro ti senti? Ok, ti sei tagliato. Ok, come ti sei tagliato? Ok, ok. Quindi, perché stavi tagliando un po' l'insalata? Eh, vabbè, dai, non ti preoccupare. È tutto regolare, tutto normale. Ok, perfetto. Allora, guarda, intanto la cosa che ti posso dare sono dei cerotti, questi cerotti che ho qui con me. Prendiamo questo cerotto. Alla fine è un piccolo graffio, mi sembra di vedere. Ok. Ora te lo metto nel dito. Credo che in poco tempo ti possa passare tutto, non ti preoccupare. Andrà tutto bene. Ah, ok, quindi è la prima volta che vieni in questo ospedale. ok. Spero di aiutarti al meglio per tutto quello che ti senti. Va bene. Ok. Dammi il dito che ti metto il cerotto. Tieni. E il cerotto te lo sei messo? Ok, perfetto. Eh, ok, ok. Quindi di base vorresti in qualche modo risolvere un problema alla gamba che hai? Ok. Perché che cosa ti senti alla gamba? Ok, quindi te la senti tipo intorpidita? Ok, ok, capito. Eh, sì. Da quanto tempo non vai in palestra o comunque non fai attività fisica? Ok. Ah, quindi un bel po' allora. Se mi dici un anno. Guarda, in realtà secondo me è questo proprio il fatto. Che è da tanto tempo che non ti alleni. Guarda, hai provato a fare esercizio un po' a casa? Non c'è mai provato neanche stretching? Ok. E secondo me dovresti iniziare assolutamente a fare stretching? Ok. Quali esercizi puoi fare? Guarda, io ti consiglio appunto dei esercizi per mobilitare intanto per mobilitare i muscoli in qualche modo. Quindi questo può iniziare con le flessioni per i pettorali oppure può iniziare tipo con, diciamo, gli esercizi per le gambe classici tipo lo squat a corpo libero o roba del genere. E si è stato fortunato a trovare un dottore che si occupa anche, diciamo, di aiutare le persone che hanno appunto dei malesseri fisici. Quindi si è stato fortunato a trovare un chiropratico di base. Guarda, ora ti scrivo appunto gli esercizi che potresti fare. Guarda, te li scrivo qui. Allora mi fai per tre volte a settimana di base. Dei esercizi tipo che sono gli addominali che devi fare tre volte a settimana. Devi muovere l'addome. Eh sì, lo so, è pesante e fastidioso fare gli addominali, però ricordati che il corpo si basa tutto sugli addominali. Almeno per, diciamo, creare un pilastro, una struttura fisica propria. Secondo me, ecco, gli addominali iniziamo così tre volte a settimana. Se vuoi, li puoi fare tutti i giorni. Poi, gli allenamenti, per quanto riguarda gli allenamenti. Partiamo con lunedì. Devi fare petto e tricipiti. Puoi fare tre serie per dieci di entrambi. Io ti consiglio di fare appunto le flessioni come prima cosa. E poi ti consiglio di fare, se ci riesci, le presenti tipo quella, la panca è inclinata. Ah ok, perfetto, là ci capiamo. La panca è inclinata però a corpo libero. Tipo ti metti col busto nel divano e provi a spingere lì. Anche se ne fai dieci, quindici, va bene lo stesso. E poi di tricipiti li sai fare a corpo libero. Ah ok, quindi già conosci il meccanismo. Ok, ok, te lo sto scrivendo. Poi il martedì. Anzi facciamo il mercoledì. Così già il corpo si riposa per il giorno prima. Puoi di base fare gambe. Devi andare a fare lo squat e polpacci. E ovviamente devi incollutere gli addominali. Sì, gli addominali sono la base. E poi ultimo giorno. Ci prendiamo un altro giorno di pausa. E ti metti a fare. E i dorsali li sai fare. Ok, li sai fare a corpo libero. Perfetto, dai. Sì esatto, basta che o li fai a casa. Oppure li puoi fare da qualche parte anche fuori casa. Tanto sappiamo che il covid è finito, quindi puoi uscire. Quindi dorsali e provi a sollevare qualcosa. Dei pesi per allenare i bicipiti. Ok. Perfetto, perfetto. Tieni, questo è per te. E sì, è la tua scheda di allenamento. Quindi, allora sappiamo che è stato appunto un problema di staticità. Questo qui è chi è adesso? Quello di prima. Quelli di prima erano semplicemente dei problemi perché magari appunto cercavi di tenerti fisicamente in forma con le gallette. Quando in realtà appunto mangiare troppe gallette secondo me non è produttivo, è giusto mangiare bene. Quindi non solo le gallette, ma variare proprio durante appunto la tua settimana. Quindi sì, prova a mangiare qualche altra cosa di verdure. Ne mangi verdure? Ok, perfetto, perfetto. Non fare abuso di carne. Non ne mangiare tanta. Ok, perfetto. Ah, quindi mangi, ti piacciono anche le robe vegane? Ho capito, tipo gli hamburger di soia, vero? Ok, perfetto, perfetto. Allora restiamo così. Fai, prova a fare una dieta più equilibrata e prova soprattutto ad allenarti anche a corpo libero. Ok, perfetto, esatto. Conta i giorni di allenamento e vedi appunto con l'alimentazione come va. E sì, noi ci vediamo il mese prossimo per vedere gli sviluppi proprio del tuo corpo. Vediamo che succede. No, va bene, non ti preoccupare, non mi devi niente. L'unica cosa che ti chiedo è di lasciare un'iscrizione in questo canale per supportarmi. No, vabbè, figurati, non ti preoccupare. È tutto una roba gratuita che faccio. Però il supporto, secondo me, è essenziale. No, dai, ti ringrazio davvero. Allora ci vediamo il mese prossimo. Buona giornata a te. Buona giornata a te.